prova dagli e certo che ha preso un calcio in faccia fare chissà che poi sapete qual è la verità che sei tu cazzari e vi dico io perché sei tu cazzari ti sei spento così scommesse giochiamo sei soldi io chiamo mattia o faccio venire ma quali sono? sefamodankarci a testa chi resistete più a te te legge la pompa sono 250 euro ragazzi che volemmo fare? sono il più povero stiamo a 400 euro sefamodankarcio a rotazione per uno chi molla per ultimo seria i sordi aspetta un attimo stiamo a parlare di te quasi stiamo a scommettere i sordi devi venire te no che c'è da fare? regia soldi in mano a te se finiscono so dove abiti siamo qui con il mitico mattia faraoni oggi facciamo hero kick la prossima sfida la faremo col brasilian kick in viso perché si era preso simone e non eratevi anche voi quindi regà innanzitutto hashtag carcio in faccia quanti like per carcio in faccia però 20.000 like fa male regà 20.000 almeno è 30.000 facciamo in ordine di altezza quindi parte prima a lui sei pronto che ne pensi di questa sfida che ne pensi? non lo so che penso mo te lo dico quello che penso fuoco a volante io c'entro niente vabbè ho persa la mezza piotta regà posso vincere perché se lui perde subito io dico regà simone cosa ne pensi di questa sfida? perché io sono preoccupato eh pure io la città quella c'è quella c'è quella c'è azzoppato porca roba no io non mi faccio sto sinceramente all'attacassotto quindi vai col secondo secondo carcio aiuto te ti sei lasciato non sei cascato no te spinghi ma hai presa una riotta dopo ogni storia che stai tutti sotto io recupero daviano da paura due piotte stanno a te perfetto questo è l'ultimo non lo dico te lo tiro forte io voglio provarlo un altro ma questo è un progettista regà ce lo provo tordi stiamo al quarto qua per 4 piotte si stanno a scannare di modo di soffo meglio soffo o 4 piotte in più vai oddio guarda stop ho provato 4 piotte in più lo sapete qual è il problema? muto camion ma sapete qual è il problema? che a me tremano le gambe già prima di partire per l'ansia non stai non stai non ti muovi prima eh trovate se ti muovi prima un attento guarda 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 due fa male due guarda guarda se te frega vai sfondami aia aia domani si è solo un po' si è arrivato tutto questo vai mamma mia che stecca pareccio pareccio è cicatone come che buona sei rialza sei rialza sei rialza o se ti rialzi le faccia la doppia come sei rialzi oh ma dobbino di ropino doppia tra l'altro doppia 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 doppio aia vai vai aia aia qua perchè ho sbattuto il ginocchio prima datemi di sordi di morta sei ricco voi c'è il soffo domani bravo ce ne parli per una volta che vinco io perdo sempre i soldi una volta che vinco metti c'è il ghiaccio è gonfio ma pure qua buttagli i sordi a sto pezzente a pezzente ti sei fatta a soffa per quanto piante allora 250 erano i miei tranquillo avvocati e posta farsi c'è scritto 400 voi legge porco giuda vedi che roba voi leggete 400 sul titolo ma alla fine so 400 meno 150 perché loro mi hanno dato solo 150 non stanno gli altri io non ho messi 250 è tutto in base agli iscritti sul canale e al peso ma perché voi non lo fai il video in piedi ma non lo fai il video in piedi allora io raga spero che questo video mi sia piaciuto perché me lo so ucciso per riuscire ma gliela fai a camminare oh ma mi fa male pure quest'altro Gino guarda è rosso l'altro mi raccomando 30 mila like i calci ce li dà in testa non sto scherzando ragazzi in serio brasilian kick brasilian kick che si dà calcio in faccia e lì sono dolori per lì c'ho paolo l'ansia grazie a tutti per la visione iscrivete qui sotto nei commenti quali altri tipi di video volete oltre che il calcio in faccia e iscrivetevi innanzitutto ovviamente al mio canale e cliccate la campanella per non perdervi nessun video iscrivetevi al canale di Cicaloni al canale di Franchino il criminale e seguite su Instagram Mattia Faroni che mo sa io fammi aprire cura lui il canale hashtag gaccio in faccia tanti like e ci vediamo al prossimo bella rega dai